Ciao a tutti, vediamo in questo video 13 segni di un turbamento irrisolto. In questo video voglio spiegarti come capire se tu hai o se le persone, diciamo, hanno, le persone con le quali interagisce, un turbamento irrisolto, un imprinting non sciolto. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se vorrai qualcosa in più, cioè se vorrai delle risposte precise alle tue domande, puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai partecipare ad apposite live mirate e in queste live mirate ti risponderò in diretta alle tue domande. Bene, e veniamo dunque al tema 13 segni di un turbamento irrisolto. Quindi come capire se stai vivendo un turbamento irrisolto oppure no. Questo è importante capirlo perché avrai la possibilità di, diciamo, avrai la possibilità di vivere meglio fondamentalmente, in armonia con te stessa, con gli altri, con tutto quello che ti circonda. Allora, veniamo un attimino alle tematiche. 13 segni di un turbamento irrisolto. Allora, il primo segnale è che opponi, o la persona oppone, resistenze ai cambiamenti, cioè cerca di opporre resistenze ai cambiamenti qualora anche questi cambiamenti fossero positivi, perché va bene cercare di opporsi ai cambiamenti negativi, ma cercare di opporsi ai cambiamenti positivi indica che c'è qualcosa che non va. Secondo segno sono dei meccanismi di autosabotaggio. Se dentro di te ci sono dei meccanismi di autosabotaggio, per cui, diciamo così, che con una sorta di sindrome persecutoria, ogni volta che stai raggiungendo un obiettivo, ogni volta che stai raggiungendo un risultato positivo, inizia a sbagliare, inizia a fare delle cose che non funzionano, beh, questo è un segnale che in qualche modo dentro di te ci sono dei meccanismi di negatività, dentro di te ci sono dei meccanismi che ti portano al fallimento, piuttosto che alla riuscita. Questo va preso in considerazione, è molto importante prendere in considerazione questa cosa, perché se non la prendi in considerazione, rischierai di continuare a fallire senza neanche rendertene conto. E questo purtroppo è qualcosa che si verifica molto spesso, anzi, direi veramente in modo molto molto frequente. Un altro, diciamo, meccanismo, un altro segno che c'è a un trovamento irrisolto è legato al fatto che non vivi nel presente. E quindi cosa succede? Il terzo è che vivi nel futuro temendo il futuro, avendo paura del futuro. E il quarto punto è che vivi nel passato rimuginando il passato. Questo è un'altra cosa che si verifica molto spesso. Ci sono tante persone che temono il futuro. E si teme il futuro quando, diciamo, si è vissuto un turbamento legato a del pathos compresso, a della emotività compressa. Ecco, questo per cui si vive con ansia il futuro. E tra l'altro c'è da tenere presente che sono pochi i casi in cui i timori del futuro si realizzano. Delle statistiche dicono che nel 95% dei casi i timori che abbiamo del futuro non si realizzano. E invece quando c'è rabbia compressa si rimugina al passato, cioè si teme che il passato possa esplodere, tornare nella nostra vita. Quinto segnale di un turbamento irrisolto è che hai paura a decidere, a fare le cose, procrastini sempre le decisioni, sposti sempre nel futuro, cioè non decidi fondamentalmente. Hai temi di decidere, temi di sbagliare, temi di fare le cose sbagliate appunto. Il sesto segnale è che invece hai paura a conquistare, hai paura a lanciarti, proprio perché temi il fallimento. Ecco, la paura di fallire, la paura di non avere la forza di conquistare, è un indicatore molto forte che, diciamo, che le cose da un punto di vista emotivo andrebbero un po' risistemate, insomma, perché questo è un, quando l'imprinting, sono, l'imprinting che cos'è? Sono emozioni compresse, emozioni che non hanno trovato modo di canalizzarsi da qualche parte, allora restano compresse dentro di noi e, come hai visto, tendono a fare danni, fondamentalmente il problema è che tendono a fare danni. Altra cosa, altro segnale che una persona, il settimo segnale che una persona ha un turbamento risolto è temere il successo, avere paura di aver successo. Questo è un po' legato al senso di colpa, no? Credi, credere inconsciamente, perché non è che uno lo crede consapevolmente, che se avrà successo, qualche persona cara soffrirà, che se avrà successo, le cose non andranno bene. E correlato, strettamente correlato a questo, sono proprio i sensi di colpa. L'ottavo segnale sono tutti i sensi di colpa, non soltanto legati al successo, ma in generale nella nostra vita. Ogni volta che crediamo che quello che facciamo può generare delle cose che non funzionano, delle difficoltà, beh, viviamo un senso di colpa. Altra situazione è che si manifestano delle piccole somatizzazioni, come ad esempio la difficoltà a concentrarsi, la difficoltà a mantenere l'attenzione su, come dire, una situazione. Il decimo segnale di un turbamento irrisolto è temere il giudizio degli altri, avere paura che gli altri possano giudicarti negativamente. Ma gli altri potranno anche giudicarti negativamente, ma il vero problema è averne paura. Undicesimo segnale è il meccanismo proiettivo, un po' paranoide, diciamo, del pensare che tutti ce l'abbiano con te. E poi talvolta si può estendere questo tutti anche all'universo. Quindi credi che anche l'universo in qualche modo ce l'ha con te. Altro dodicesimo segnale è la paura di credersi incapaci, incapaci di fare le cose, pensiamo di essere difettosi, usciti difettosi dalla fabbrica, e questo è un altro segno che c'è qualcosa da sistemare da un punto di vista emotivo. E per finire, un'altra credenza di chi ha un turbamento irrisolto è pensare di essere sfortunato, di essere nato sotto una cattiva stella. Ecco, questi sono i 13 segnali principali che indicano che è un turbamento irrisolto. Ovviamente poi farò un video, diciamo, dove spiegherò come risolvere il turbamento irrisolto. Per ora, per questo video è tutto. Lascio un commento qua sotto così diamo, diciamo, un contributo alla community. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramanschi, iscriviti al canale attivando la campanella, e ti ricordo che se vuoi delle risposte precise e mirate alle tue domande, puoi abbonarti al canale. Ciao a tutti!